Grazie Sì 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 Su Sì Guarda Sì Una cosa più bella Non me lo hai visto Ah, no, non c'è Sì 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 Quanto ci metto? Sì Sì Non so Sto pranzo Sì Sì Un ott lo Sì 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 sì? No. Sì. Pagopritz. Pagopritz. Per te dici, non la croce lì ma le antenne lì a destra. Non la su. Sì, però in giornata dov'è che vai? Dove ci sono le antenne lì? Ok. Vado sotto il moto con la croce. Vado sotto le antenne. Vado giù per la frontina. Vado giù per la frontina. Pagopritz. 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 Mettrò. Immagino che quando vai in penula a fare dei trenta quilòmeter più per loro. Pagopritz. Prova da ricerle no? No. Noi ci sono di quattro a Pagopritz. Ma ci sono di quattro a Pagopritz. Passate. Pagopritz. Lui allenava il cavallo in plagi. non so quanti chilometri in quanto tempo, però andavano anche giù all'ipodromo è una piccola? si è perché è un muscolino diverso alla fine fa 10 cavalli di pianura, faccia piccola ok è molto pari e quindi